Continua il lavoro dell'amministrazione bancheria a Delia per migliorare le strutture già esistenti nel territorio. Dopo aver preso finanziamenti nei mesi scorsi riguardanti l'efficienza energetica con sostituzione dell'illuminazione pubblica, ma anche per ristrutturare la palestra, la biblioteca e le varie scuole della cittadina, infatti ad essa arriverà un altro importante aiuto. Questo servirà per ristrutturare il campo sportivo comunale Michele Dario Carvello. Un finanziamento imponente che si aggirerà intorno a 700 mila euro e che sarà disponibile entro la fine dell'anno corrente. La buona notizia è arrivata nella giornata di martedì ed è stata annunciata direttamente dal sindaco Gianvilippo Bancheria ai nostri microfoni. Finalmente Delia ottiene il finanziamento per il campo sportivo. Siamo quasi arrivati a 20 milioni di euro i finanziamenti per un comune sotto i 5 mila abitanti. Questo finanziamento è regionale però a valere su fonti nazionali. È un finanziamento di 700 mila euro a fondo perduto, quindi a totale carico di finanziamenti esterni. Prevederà per il nostro campo sportivo Michele Dario Carvello la sistemazione delle tribune, la sistemazione di tutte le recinzioni esterne, tutte le mura perimetrali. Poi prevederà anche la sostituzione del manto erboso e il campetto di calcetto annesso al campo sportivo. Prevederà la copertura a fotovoltaico di tutta la tribuna, la sistemazione anche dei servizi igienici e anche alcune opere di consolidamento. Quindi 700 mila euro a totale copertura esterna che servirà a dare un restyling totale al nostro impianto sportivo. Il decreto di finanziamento arriverà nel mese di dicembre e deve concludersi tutto entro 18 mesi a decorrere dalla data di finanziamento. Quindi un ennesimo risultato importante per Delia che va nella direzione di riqualificare, migliorare ed efficientare tutte le strutture del nostro paese. Grazie.